Appassionati di musica? Libera le tue emozioni con Centro Musica per dilettanti, professionisti e per qualsiasi occasione. Chitarre, bassi, violini, organetti, strumenti a fiato, batterie e percussioni, tastiere, pianoforti classici e digitali, amplificatori, accessori e sala DJ. Ed infine noleggio e vendita audio e luci. Organizza seminari gratuiti e offerte promozionali per gli allievi delle scuole sperimentali. Centro Musica è in via nazionale con Trada Fonte Padula Scalo. Telefono 0975 74 169.